Iscriviti al canale! Salve amici di Youtube Questo è un disclaimer prima del video guida Io ho registrato il video prima dell'uscita della patch E ancora la maggior parte delle cose sono valide Quindi vi invito a guardarlo perché è interessante Alcune cose sono cambiate Ve lo dico Purtroppo editare il video del lunedì ci vuole qualche giorno E quindi ci sono momenti Soprattutto in questo periodo in cui le patch arrivano frequenti E in cui stare dietro è impossibile O registro domenica e edito Faccio editare nella notte Esce lunedì Se no che si fa E quindi niente godetevi il video E perdonatemi se alcune cose non sono diciamo Updated Ok? Vai il video Salve amichevole popolo di Youtube Bentornati Oggi con una nuova guida Le guida di Booney Oh yeah! È sempre più difficile fare le guide Non tanto perché ho poche cose da dire Vorrei parlare di tanti argomenti Ma fanno annunci tutte le settimane Però Quest'oggi Poi magari anche lì Bafferanno e nerferanno eh Io oggi sto registrando Oggi è il 26 Giugno per me Ehm Voi il video lo vedete Il primo giugno Il primo luglio Quindi Cioè Io vi dico Al 26 Oggi facciamo Vi dico la top 5 E la Worst 5 Dei Buddies I migliori E i peggiori Da chi partiamo? Partiamo dai peggiori? Partiamo dai peggiori Dai peggiori Allora in realtà ne ho messi 4 Perché Il quinto Non Non l'ho trovato Insomma questi sono veramente inutili All'ultimo posto Metto Il granchio Il granchio L'abbiamo provato anche in live L'abbiamo provato E È il buddy di Tavish E dice Taviana 5 2 3 bestia Dopo che il tuo aeropaule ha fatto danno Dà le statistiche Del danno Ai vicini Taviana 5 2 3 Non lo tripli mai Perché non ce la fai Cioè arrivi a triplarlo E anche se lo tripli Non fa una madre È una 2 3 Cioè Il buddy di Holiday Che ha un effetto più forte È una 9 9 Cioè Per favore Per favore Baffatelo O lo portate di Taviana 3 O forse anche 2 Oppure Baffategli le statistiche Per l'amore di Dio Poi Al secondo Penultimo posto Ci metto Il buddy di Dancing Daryl E questo L'hanno rimesso Cambiato Taverna 4 2 2 Quando vendi Gli metti un cappello Che poi I suoi cappelli andranno È veramente orribile Questo È proprio pensato male Perché Non è tempo Non è gridi Perché Non è Non ti dà valore Non serve proprio una mazza Ah una certa Lo vuoi vendere Lo devi vendere Perché Cioè Lo devi vendere Sto cosa una certa E quindi poi Finisce una volta Che l'hai venduto Normalmente Ovviamente È proprio È veramente brutto Poi Poi ci metto L'amabile Buddy di Jandice Almeno Perlomeno Il buddy di Jandice Taverna 3 4 Quando swappi un minion Da niente Ambi le statistiche Della tua taverna Perlomeno È taverna 3 È taverna 3 Però Le stats sono Bruttine 4 4 E soprattutto Tu non vuoi Swappare i pezzi Che hai Con Jandice Tu swappi Semmai dei battle Che hai O qualcosa Che Tu non vuoi Tenere in board No E il pezzo Che prendi È casuale E quindi non è detto Che tu lo voglia in board Quindi tu ti stai Nerfando Per dare cosa Più 4 Più 4 Entrambi Ah che porcheria No È una porcheria Sto cosa Veramente brutto E all'ultimo posto Nei buddy Ci metto La capirana Quella di Cariel L'eroe brutto L'hanno ne affatto Un sacco Ed è ingiocabile Il buddy È ancora peggio Il buddy Veramente Non fa nulla È di nuovo Taverna 5 Ragazzi il buddy Quando è Taverna 5 Deve fa qualcosa Di forte E sta roba Non fa niente Cioè Da più 2 Più 2 Fa Potenzia Più 2 Più 2 Ma dai Ma che schifo È una tristezza Perché arriva Tardi No Cioè se questa cosa Arrivasse prima Perlomeno sarebbe Una cosa a tempo No Una mossa Che tu fai Guadagni statistiche E va bene Ma essendo Taverna 5 Da più 2 Più 2 Il tuo Ero power Quando ci sono già Delle 30 30 in campo Perché questa è la situazione Che cosa Non c'è un tag Non c'è niente Niente Veramente Pessima Veramente Veramente Pessima Passiamo La top Top Cingu Ragazzi Top Cingu Allora Ve ne metto Subito uno Che Verrà riaffato Non lui Ma magari Viene riaffato All'intorno Perché al momento Ve ne devo parlare Perché al momento Fa parte della build Diciamo Una delle build Più giocate Che è Il buddy di Zephyr Il buddy di Zephyr Lo combi Con il drago Che ti dà Che attiva Il battle cry Lo potete giocare Ancora un giorno Io ve lo dico C'è un po' Ve lo nerfano Però Se voi utilizzate Un brun Ma anche nulla Fate soldi infiniti Perché Tu attivi sempre Il suo battle cry Fai in modo Che ti dia Di nuovo Il drago Rigiocchi il drago Vendi il drago Riattivi il suo battle cry Ti ridà il drago Vendi il drago Riattivi il suo battle cry Vendi il drago Riattivi il suo battle cry Vendi il drago Riattivi il suo battle cry Vendi il drago E niente Sai infiniti i soldi È indubbiamente Troppo forte Però Tanto lo nerferanno Però Io devo citarlo Perché È stato top Nel meta Consiglio mio Non prendete Zephyrus Perché Secondo me Questa combo La fa meglio Chi ti ruba Il buddy Chi riesce A rubarti il buddy Fa la combo Meglio di te Che sei Zephyrus Poi 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 Ci metto Ci metto Ci metto Maxwell Maxwell Il buddy di Pinnus Anche questo fa delle poicherie Inaudite Allora Al momento Come sempre Con il drago Che gli attiva il battle cry Io rischi di fare delle cose Veramente zozze Anche senza L'attivatore del battle cry Maxwell È molto figo Per due motivi Uno perché Ti sconta I buddy Che costano 5 Se tu trovi un buddy Che ha Taverna 5 Lui è Taverna 4 Quindi È importante Quando andate a prendere Pinnus Di Scegliere un eroe Che ha il buddy Taverna Alta Chiaramente Il deuback è Prendete Pinnus E poi vi capitano Tre eroi Con buddy Taverna 1 2 Lo prendete un po' In quel post Però È il rischio Il rischio è il nostro mestiere Quindi Maxwell È sicuramente molto forte Poi con Bran Lo sapete Può fare cose E quindi Maxwell sicuramente È Credo sia un top tier Decisamente top tier Poi gli ultimi tre Al terzo posto Ci metto uno che Ho sempre amato Ed è il buddy Di Sindeagosa Il campione Taverna 3 5 7 E ti dà il pezzo A fine turno Congelato Questo qui ti fa livellare Perché Sindeagosa Già Compria pezzi un po' Baffatini all'inizio No Lui Ti dà qualche pezzo Sempre un po' Baffatino Perché il tuo ero power Comunque baffa E ti permette Il campione Di livellare Senza subire Troppi danni Perché poi Il tuo ero power Perde di senso Ma anche lui stesso Anche il buddy Stesso Perde di senso Quindi Sfruttare Il buddy Per Per livellare È il modo giusto Di giocarci E secondo me Lo fa molto bene Se siete indecisi E vedete Sindeagosa Ve la consiglio Al secondo posto Ci metto Il buddy Di Snake Eyes Snake Eyes È veramente forte E mech Taverna 4 Early game Snake Eyes Col fatto che Il suo ero power Gli dà soldi Li vince Il primo fight O comunque Dovrebbe vincerli Quindi lo sconti È anche abbastanza facile E poi hai Degli spike Rischi di avere Degli spike clamorosi Veramente clamorosi Il fatto che Discovera La spell Della taverna È fortissimo Non puoi mancare Non puoi missare Ti ha un value Clamoroso Chiaro Se poi Tu lo metti E fai 1-1 Alzo le mani Sfiga L'effetto È brutto Però Se già tirate Dal 3 in su State State Una crema Come si dice Assolutamente Il tizio dei dadi Grande pezzo Grande Grande pezzo E infine Quello che fa Build da solo Fa tutto lui Ed è il buddy Di Di Hoggar Fa veramente Tutto lui ragazzi Stai taverna 3 Metti questo pirata Compri i pirati Li compri tutti Poi Quando hai giocato Abbastanza mozzi Del mazzo Da Per fare in modo Che la tua Locanda Costi Zero Allora livelli E poi Continui E Nel mentre Vai in infinito O quasi Fai una marea Di statistiche Fai veramente Una marea Di statistiche La board Vuole Chiaramente Quello che Quando guadagni Gold Si Baffa E poi Voli Ma proprio Voli Con lui E basta Ti basta Lui E poi ci metti Oberan O tetis E sei Non sei infinito Sei tanto In infinito Cioè Non è possibile Che ti dia la moneta O non ti deve dare il pirata Di nuovo nella taverna Però la moneta Te la dà l'hero power Di hogar Quindi è difficile Togliere quella roba Perché È dell'hero power Non è del buddy Se devi neer fare il buddy Non gli devi far trovare il pirata Dovrai fare dei roll Se no Il gioco è anche scemo No Compri sempre quel pirata lì E frizzi lo shop All'ultimo turno È di una facilità Che è troppo Veramente troppo Comunque Questa è la mia tier list Fatemi sapere Cosa ne pensate Fatemi sapere Se siete concordi Oppure no E sapete Qui le cose cambiano Quindi Non Non fossilizzatevi Anche un cambio di tier Dei Dei buddy Ne cambia La potenza Molto Ne cambia Davvero di tanto L'effetto E la potenza Quindi state State molto all'occhio E Niente Godetevi il nuovo meta Sperando che Che non ci siano più cose rotte Come il chupacabra Perché Ammetto Che il meta chupacabra Non è proprio Non è che proprio sia C'è stato di meglio Ecco Opinione personale C'è stato di meglio Al prossimo video Sigala di fine È finita La guida Di buddy E ığı A 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 grazie a tutti